Eccomi qua sul sito random, creiamo una sequenza da 1 a 59, una colonna, vai, vincono i numeri 29 materiale creativo e 21 una mia creazione. Andiamo a vedere chi sono, 29 e 21, creativissima a me, hai un nick quindi non ti posso conoscere dall'altra parte, vince una mia creazione perché è il secondo estratto, il 21. Complimenti per tutto il cavallo, meritatissimo, faccio un po' di tutto, scarabocchi, punto croce, cucito creativo, bene, quindi un gioiellino forse ti sarà gradito. E il 29 invece, andiamo a vedere chi è, 29 Elena Aliano, neanche te ci conosciamo. Complimenti per tutto il cavallo, mi ha meritato, inizialmente varie tecniche, preferisco la tessitura di perline, un bacio continua così, perfetto, quindi a Elena Aliano andrà il pacchetto con il materiale creativo, quindi tessitura di perline credo proprio di farcela. Ti manderò un po' di materiale, appunto, in regalo. Questa è l'estrazione, io vi ringrazio di aver partecipato e vi rimando alla prossima estrazione perché siamo a, intanto che abbiamo fatto questo concorsino, mi sembra 6.400 iscritti circa. Qua, 6.420, quindi arriveremo a 7-8.000 fra un po', quindi fra un pochettino ci sarà un'altra estrazione, quindi state sintonizzate, ci sentiamo alle prossime e intanto io contatto queste due ragazze che hanno vinto. Grazie mille di tutto, di aver partecipato e alle prossime, ciao! Ciao!